Queste macerie sono ciò che resta della facciata della chiesa di Oliveto, piccola frazione nel comune di Civitella in Valdichiana. Questa notte un forte boato, circa verso le 4.30, ha svegliato i residenti, coloro che abitano proprio qui sulla piazza. Per fortuna però non si sono registrati danni alle persone, a quell'ora la piazza era ovviamente deserta, però la paura è stata tantissima e adesso si cercherà di capire, le autorità competenti stanno cercando di capire in che modo è possibile anche mettere in sicurezza tutto l'edificio. Allora noi abbiamo ascoltato alcune testimonianze di questa notte. Verso le 4.30, era notte, poco prima dell'alba. Io stavo dormendo, a un certo punto ho sentito un grande tonfo che sembrava come un mix fra un temporale e un vaso che si rompe di cocci. Mi sono affacciato e ho visto il fumo come sembrava un incendio e non capivo lì per lì. Dopo ho guardato per bene e c'era tutte queste pietre in terra. Io sono sincero, all'inizio ho pianto perché abito qui da sempre, insomma la chiesa, ho fatto comunione, tutte le cerimonie, insomma dispiace parecchio. Questa notte si era sveglia a quell'ora perché ero scesa in bagno e dopo sono tornata a letto, ho detto ora si dorme, era le 4.30 mi sembra, le 3.30, le 4.30. Un boato è stato, sì sì, io pensavo fosse, dico ma Antonio, sembrava come fosse scoppiata una bomba. Grazie mille, Grazie a tutti.